Allora, siamo in diretta qui a Bordocampo, medaglia d'oro per l'Antignotti Micheletto. Lo devo dire o no? Può essere di buon auspicio? Speriamo! Ma meglio non dirlo! Una finale bellissima, quando si gioca con i tre set così tirati è sempre bello. Sì, molto combattuta, le ragazze le conosciamo bene, ci giochiamo quasi ogni torneo, quindi ormai ci conosciamo molto bene, per questo probabilmente è stata così tirata anche e complimenti anche a loro perché hanno fatto una grande finale. E poi l'atto conclusivo tra poco più di una settimana a Caorle? Ci sono le finali finalmente, tutto quello che abbiamo lavorato quest'estate abbiamo un ultimo torneo per farlo vedere e niente, arriveranno queste finali. Allora, vi facciamo l'in bocca al lupo e ci vediamo dopo per le premiazioni.